buongiorno benvenuti questa rassegna stampa oggi 11 agosto sabato 11 agosto i giornali oggi in realtà sono tutti quanti pieni della questione turca vediamo prima di dire che cosa è successo la cronaca e un po di opinioni che si trovano sui giornali perché quando tocca la turchia e trump e l'islam e non islam e erdogan gli amici di erdogan oltre scusatemi alle questioni politiche ci sono le questioni scusatemi economiche finanziarie ci sono ovviamente tante questioni politiche che i giornali si sbizzarriscono a trovare partiamo da quello che è successo ieri la lira turca si è svalutata cioè ha perso valore rispetto al dollaro del 20 per cento circa 18 secondo alcuni secondo altri calcoli il 20 per cento vuol dire che tu puoi comprare la lira turca improvvisamente può comprare merci a un quinto del costo in più dopo la svalutazione di ieri insomma una bella botta per quelli che hanno lire turche quindi vedono di fatto molto più caro per loro comprare prodotti e merce che arrivano dall'estero dall'inizio dell'anno però la lira turca zitta zitta aveva perso il metà del suo lavoro rispetto al dollaro americano questi sono i fatti riguardo alla lira turca altre questioni che sono importanti l'italia nei confronti della turchia è un grande esportatore cioè noi mandiamo merci in turchia per 10 miliardi di dollari e questo è come alcuni analisti notano oggi sui giornali può essere un problema per l'italia perché per esempio la sola lombardia esporta in turchia 5 miliardi di euro di merce cosa fa l'economia turca e tanto l'economia turca crescerà quest'anno tra il 4 e il 5 per cento quindi la sua svalutazione che è gravissima comunque per ora secondo le prime indagini non sta compromettendo la crescita del paese che però diventa più povero relativamente agli altri perché la sua moneta e tutte le sue attività denominate appunto in lira turca valgono di meno quindi abbiamo detto quello che succede sul debito inoltre turco c'è un'altra votazione importante da fare e cioè che il 50 per cento del debito turco è detenuto da stranieri quindi è debito di stranieri e questo è un po' una sola per gli stranieri che hanno investito nel debito turco perché si trovano un debito che è svalutato del 50 per cento rispetto a quello che loro avevano pagato nelle loro valute si immagina forti tipo l'euro e il dollaro nei mesi scorsi chi ci rimette di più intanto quelli che hanno appunto le lire turche svalutate e alcune aziende italiane si sostiene che hanno attività in turchia una di queste i giornali raccontano essere unicredito che c'ha il 50 per cento di una banca in turchia con la famiglia una delle famiglie più importanti turchi che si chiama coach e questa banca però dice l'amministratore delegato di unicredito ragazzi non scherziamo vale il 2 per cento del nostro fatturato quindi quisquilie nonostante ieri il titolo della banca italiana abbia perso il 2,5 per cento il 2 per cento del fatturato fatto in turchia da questa banca turca in più aggiunge l'amministratore delegato della banca italiana cioè di unicredito dice i titoli turchi che abbiamo in portafoglio sono 160 milioni immaginate voi questo è lo 0,01 per cento dei titoli sovrani che noi abbiamo in portafoglio quindi questo è il panorama generale il pezzo migliore oggi ve lo dico e ve lo consiglio è quello di danilo taino pagina 3 del corriere della sera come sempre molto lucido nelle sue analisi dice che oltre a tutte le questioni che andiamo un po sui commenti che stanno che possono riguardare specificatamente la turchia c'è un elemento cioè nel mondo i tassi di interesse stanno aumentando e negli stati uniti stanno aumentando quindi c'è una sorta tempo si diceva fly to quality cioè si vola verso la qualità se i tassi di interesse salgono si va verso i paesi più virtuosi si pensa di investire più negli stati uniti che in turchia quindi togliendo soldi la turchia si deprezza il mercato turco è una forse spiegazione semplicistica però è una spiegazione molto importante soprattutto alla luce del fatto che in turchia c'è un'inflazione del 12 13 per cento mentre negli stati uniti l'inflazione è ancora molto bassa e contenuta questa è una delle spiegazioni di taino il quale prevede che tutti i paesi emergenti la turchia una di queste soffrirà nei prossimi mesi fantastico libero oggi perché dice il marchio il tema islamista il monarca islamista salta e sostanzialmente pongono invece sul cambio di passo del mercato turco non solo loro anche Fiammanire stanno un po' lo fa sul giornale dicono beh insomma lì c'è anche una questione di Erdogan l'uomo forte l'uomo che non dà diritti l'uomo che cose tutte ovviamente vere il quale ha compromesso l'uomo forte solo al comando l'economia turca se così fosse ci sarebbe diciamo una spiegazione un po' più politica Andrea Borani ognuno la guarda secondo i propri occhiali io me li tolgo così facciamo prima l'altra interpretazione invece di Repubblica e di Borani se ci fosse stata una maggiore integrazione della Turchia nell'Unione Europea beh in fondo non avrebbe questi problemi economici fantastico qui è la teoria prodiana cioè rendiamo l'Unione Europea sempre più grande abbiamo visto che casini che sono successi con un'Unione Europea a 27 e a 28 e la stampa mette in evidenza un'altra cosa sulla rischio Turchia e cioè che Erdogan ha chiesto aiuto a Putin il quale anche lui non se la passa bene nei confronti degli Stati Uniti l'altra questione che pochi hanno analizzato perché tutti dicono è Trump il cattivo che sta mettendo nell'angolo la Turchia può anche darsi ma ci sono due elementi da considerare il primo è che forse la mette in un angolo per interposta persona lo nota oggi qualche giornale forse il sole 24 ore cioè sostanzialmente mettendo le sanzioni a Teheran cioè all'Iran tutti i paesi che trattano con l'Iran sono nella black list per gli americani bene siccome la Turchia importa 50% del suo petrolio dall'Iran sono cavoli suoi perché non potrà più farlo se vuole avere rapporti con gli Stati Uniti o dovrà farlo in maniera nascosta insomma questa grande complessa partita geopolitica non pensate sia rivolta soltanto alla Turchia chi crede che il problema turco sia un unico problema di Erdogan e del cattivone che toglie diritti ai giornalisti che gli arresta i propri oppositori si sbaglia di grosso purtroppo si sa come i contagi iniziano e mai come finiscono quindi attenzione perché poi le grandi partite finanziarie come ricordiamo con il fallimento di un fondo di BNP Paribas nel 2007 sul ISU Prime non voglio evocare scenari drammatici però avvengono d'estate quindi attenzione a quello che viene in Turchia perché riguarda tutti quanti noi nel frattempo in Italia per dirvi come cacchio viviamo noi Salvini decide di togliere genitore 1 genitore 2 dal sito c'è scritto un po' su tutti i giornali chi se ne compiace come libero il giornale chi dice mi sembra la Nunez che è una del Movimento 5 Stelle la fine di una civiltà in un'intervista ma la cosa interessante sentitemi bene non è il fatto che voglia togliere quella minchiata di genitore 1 genitore 2 sui quali siamo tutti quanti d'accordo è semplicemente una minchiata all'interno del ministero degli interni ma per fare questa roba qua cioè per togliere un modulo in cui devi scrivere genitore 1 genitore 2 mettere padre madre Salvini deve sentire un ministro dell'istruzione ministro pubblica amministrazione deve sentire deve concordarlo col ministro dell'economia ma non contento secondo quello che ho letto oggi sul Corriere della Sera deve sentire il parere obbligatorio dell'agenzia per la privacy dell'autority per la privacy dell'agenzia Italia digitale e non contento deve convocare la conferenza stat-regioni allora secondo voi secondo voi tra Erdogan uomo forte e Salvini uomo forte che deve sentire l'agenzia cazzo digitale di questo paese e la conferenza stat-regioni per cambiare una dicitura sul suo sito c'è voglio dire c'è una via di mezzo tra l'uomo forte che mette in galera i suoi i suoi come si chiama avversari e quello che non può cambiare opinabile non opinabile la dicitura all'interno del ministero degli interni che dice genitore 1 genitore 2 e deve convocare la conferenza stat-regioni cioè siamo in un mondo completamente impossibile vista la burocrazia digitale che è ben peggiore di quella diciamo fisica che avevamo un tempo io la trovo una cosa complicatissima dice come complicare cose semplici qualcuno di voi il cavaliere scrive a libero in cui e dice due tre cose il cavaliere berlusconi dice noi del centro-destra non faremo mai accordi con il pd e siamo in salute insomma lo possiamo prendere in parola sul fatto che non faccia mai accorti col pd sul fatto che forse tale se in salute c'è qualche dubbio legittimo che tutti possono avere soprattutto quelli che conoscono bene il centro-destra dice sono arrivate persone da noi beh sono andate via anche tante purtroppo è quella base che forse al cavaliere non è nota ma che comunque fa danni sul territorio ne ho presenti alcuni che vedono questa zuppa e che ci ricordano il fatto di cosa sia questi piccoli satrapi locali che esistono in italia che in realtà pensano non tanto al bene di un centro-destra ma il loro personale torna conto invece feltri risponde al cavaliere oggi è libero e dice guardate che io non amo il governo gelovete ma dice feltri la lotta ai cretini così scrive non si fa con processi con partiti all'acqua di rose insomma questa è la tesi di feltri cioè datevi una smossa perché se no la lotta ai cretini non la facciamo certo con una forza italia indebolita questo è quello che dice feltri nel frattempo notizia di cronaca oggi su tutti i giornali in abruzzo che andrà a elezioni perché il suo presidente tra senato il presidente d'abruzzo ha scelto di fare il senatore capendo che questo governo durerà questa legislatura forse durerà cinque anni quindi gli conviene fare il senatore insomma in abruzzo si andrà a votare e lega e forza italia vanno separate complimenti bella idea per riformare il centro-destra e travaglio risponde oggi a bonini ieri vi ricordate bonini sulla repubblica lo attacca e dice il metodo travaglio e lo prende e lo svertuccia e oggi travaglio gli risponde da per suo dicendo sostanzialmente che lui c'è stato a repubblica è un giornale che non dà le notizie ma pensa soltanto alla sua parte politica da che pulpito arriva questa penso che sia vero quello che dice travaglio ma che sia vero anche il contrario che fatto come diceva carlo bonini è il giornale governativo per eccedenza anche anzi il movimento 5 stelle e poi dice che lui stesso è stato centrato tante volte a repubblica poi una serie di tante altre robe che se vi interessa questa polemica sterile tra travaglio e bonini leggetevela ma io perdere più di tre minuti su questo non voglio fare grande invece la notizia che viene un po' oscurata dai giornali su Ryanair siamo in tempi di vacanza io ne avrei fatto paginate come possibile che quella che dovesse la compagnia aerea mondiale che risolve tutto quanto secondo il mio modestissimo avviso per carità è peggio dell'alitalia dei tempi d'oro per lo sciopero dei piloti avrà ragione Ryanair avranno ragione le due sigle sindacali belghe io non sono molto interessato a questo ma che nel giorno del maggiore esodo ci siano 55 miglia persone che sono rimaste a terra per biglietto Ryanair non mi sembra cioè se l'avesse fatto l'Italia avremmo fatto i titoli in prima pagina sui giornali lo fa Ryanair ce ne sbattiamo le balle insomma non lo so se questo è uno sciopero come possiamo dire giusto o sbagliato ma quello che dico è che l'effetto è che Ryanair viaggiare Ryanair in queste ore è davvero pericoloso speriamo che il easy jet che uso questa sera non sia altrettanto incasinata facciamo le corna Italia oggi nota una cosa molto divertente oggi che è avvenuta sull'Italia oggi lo leggo e cioè che il sindaco Orlando il genio del sindaco Orlando di Palermo cosa fa? Dà delle scase comunali a un gruppo di roba le famiglie palermitane piuttosto incazzate certamente alimentate dalle forze politiche della destra ma anche di musumeci si occupano che cosa? Le case che il comune aveva assegnato a Roma e dicendo prima gli italiani beh io trovo che l'idea che chi aveva occupato un campo gli tolgono il campo e poi gli assegnano delle case gli italiani che stanno lì in lista non si beccano manca una casa ma potrebbero essere rumeni francesi yugoslavi quello che vi pare ma che erano in lista e si vedono sorpassati nelle case nell'assegnazione delle case comunali da quelli che avevano occupato fino al giorno prima beh mi sembra forse una procedura che è del tutto fuori luogo e senso alla De Magistris ecco mettere insieme Orlando e De Magistris l'ultima cosa fondamentale della giornata è il tema del glifosato come voi sapete è un diservante utilizzato e recentemente anche accettato dall'Europa e tutti gli agricoltori lo usano con condizioni molto precise nel suo utilizzo fa male o non fa male secondo l'Unione Europea non fa male non è cancerogeno secondo l'EFTA non è cancerogeno l'EFSA non è cancerogeno secondo le autoriti americane non è cancerogeno bene non è cancerogeno secondo tutte le grandi autorità mondiali stiamo parlando qua di scienza di vaccini eccetera ma secondo una giuria americana lo è è stata condannata la Monsanto che è una grande multinazionale che faceva in esclusiva perché oggi il glifosato non ha più esclusiva la possono fare tutti faceva in esclusiva e lei che si è inventato il glifosato è stata condannata a 289 milioni di dollari di multa per un agricoltore scusate per un giardiniere delle scuole americane che si è Corriere della Sera c'ha la notizia non della condanna ma della storia perché la condanna è avvenuto pochi minuti fa beh insomma è stata condannata la Monsanto perché questo signore si è beccato un tumore terminale una storia tragica è una storia che abbiamo forse visto in qualche film americano con Giulia Roberts ve lo ricordate la giuria ha detto sostanzialmente non che è un po' complicato perché non è esattamente che è cancerogeno l'utilizzo fatto in quella maniera senza le precauzioni che la Monsanto non dava nell'utilizzo di quel diservante poteva dare effetti cancerogeni comunque sia è una storia pazzesca perché il glifosato è utilizzato generalmente da tutti quanti gli agricoltori e viene considerato il il fertilizzante meno dannoso dagli agricoltori rispetto a tante altre alternative una storia molto sulle pensioni d'oro il loro taglio che dici porro mi chiede Ivan Ivan io non è che posso parlare delle pensioni d'oro tutti i giorni e vatti a vedere un po' di di queste zuppe e vedrai che c'è molto su questo l'ultima cosa riguarda il sole 24 ore sottaggio sondaggio su tab e tab fatto dall svg oggi pubblicato al sole 24 ore che vede come il 49 per cento di italiani le consideri indispensabili sia la tab sia la tap mentre il 30 per cento voglia vuole cancellare le grandi opere è un diserbante ho detto concimante Matteo scusatemi se ho detto concimante ho sbagliato proprio era un diserbante comunque il glifosato mi scuso se mi sono sbagliato tab e tab il 30 per cento è contrario la notizia secondo me non è che il 49 per cento consideri indispensabile tab e tab la cosa incredibile per me che ci sia ancora un terzo degli italiani c'è il 30 per cento che considera un'opzione quella di cancellare quella di cancellare il le grandi opere questa mi sembra la notizia il sole 24 ore ora sotto processo bene solo in america si prendono certi provvedimenti da noi le multe non le pagano i potenti comunque in tv se diverso più pulito qui se un po più sboccato mi dice qualcuno la dittatura delle minoranze secondo roberta e sono totalmente d'accordo sia raffaella sì sì è un diserbante non un fertilizzante ho detto una stupidaggine benissimo eccolo qua il glifosato andrebbe vietato sulla faccia della terra eccoci qua e questo purtroppo sarà il timore quello che è chiaro è che tutto un po in incerto bene saluto a tutti quanti voi vi do appuntamento domani da un altro paese ciao